Ciao, a fine ottobre tutta la community di trader della Unger Academy si incontrerà dal vivo per tre giorni in cui Andrea Unger, Francesco Placci e il team ricerca e sviluppo condivideranno le strategie operative e i nuovi tool necessari per prepararsi a un grande 2025. Ecco un piccolo assaggio di quello che faremo all'Unger Summit Live. Presenteremo in anteprima una nuova modalità operativa incredibilmente semplice da seguire, senza bisogno di un'infrastruttura e che si basa su una o poche operazioni mensili adatte anche a piccoli capitali. E poi parleremo dei nostri nuovi software per semplificare il trading e abbattere ogni barriera. Come Zeus, l'innovativo software per costruire un portafoglio di strategie automatiche in modo semplice e intuitivo frutto di due anni di lavoro del nostro reparto ricerca e sviluppo. E poi il Composer AI, un tool incredibile che permette di codificare centinaia di strategie automatiche senza scrivere una sola riga di codice, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale applicata al trading sistematico. E non è finita perché tutti i partecipanti all'evento Live riceveranno una licenza gratis di sei mesi per utilizzare il Composer AI. Inoltre nel corso dell'evento terremo anche un workshop interattivo in cui Andrea Unger svilupperà insieme ai partecipanti diverse strategie automatiche partendo da zero. E ovviamente ci sarà molto 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 altro. Per scoprirlo non ti resta che riservare il tuo posto. L'evento si chiama Unger Summit Live e si terrà a Padova dal 25 al 27 ottobre. Non puoi assolutamente mancare.